Diciamo che abbiamo le spalle larghe, siamo abituati ad assumerci le responsabilità. C'è un grande progetto di rilancio e di rinnovamento di questa realtà territoriale sofferente ma ricca, tanto ricca di ricchezze che sino a questo momento non sono state prese in considerazione. Ovviamente la presenza della Presidente Gaspati mi onora, mi responsabilizza, ma dei stimoni all'attenzione a livello nazionale che questo, quello che accade a Trindisi, ha come riflesso rispetto a delle scelte che sebbene consumate a livello territoriale rappresentano sicuramente un passaggio importante per il futuro.